15 anni fa abbiamo iniziato un rapporto con Replica proprio perché abbiamo visto che avevano dei programmi performanti, dei programmi che ci potevano dare soddisfazione perché noi con i loro programmi gestiamo lotti, scadenze, fifo, lifo o quant'altro ed era quello che a noi ci voleva. Noi prima gestivamo con altri prodotti sul sistema S-400, con loro ci siamo permessi di entrare in un altro mondo e questo ci ha dato molta soddisfazione. Oggi tutti i nostri magazzini gestiamo anche per codi, la di frequenza, inventari permanenti e chi più ne ha. Claudio Franceschelli, presidente Due Torri, ha dato il benvenuto ai partecipanti in occasione dell'evento Logistica in movimento, visita al magazzino Due Torri del 29 febbraio 2012, illustrando le attività dell'operatore logistico e la collaborazione con Replica Sistemi che dura da anni. Presente sul mercato da oltre 35 anni, Due Torri si occupa di logistica integrata per i settori editoria, biomedicale, cosmetica, avvigliamento, prodotti farmaceutici e veterinari, illuminotecniche e alimentare secco, gestendo anche i depositi doganali, fiscali e IVA. La struttura si sviluppa su una superficie coperta di oltre 20.000 m2 e coinvolge l'operato di circa 150 addetti. 10.000 m2 sono a temperatura controllata e 4.000 sono dedicati ad area doganale. Ivan Novellini, responsabile linea logistica Replica Sistemi, ha poi illustrato nel dettaglio le caratteristiche di Stock System, mostrando i miglioramenti che si possono ottenere in tutte le fasi del processo logistico. Successivamente i partecipanti si sono recati nel deposito presso l'interporto di Bentivoglio, in provincia di Bologna, per osservare direttamente in magazzino le performance del WMS Stock System che coordina le attività di tutti gli operatori, garantendo precisione e puntualità per un miglior servizio al cliente.